messaggio di marica moretto 15 ottobre 2022 voce marina cara anima stai rivivendo ciò che ti ha dilaniato il cuore a te che non credi più nell'umanità a te che denunci con rabbia chi vive nella fiducia a te che giudichi la speranza e le sue manifestazioni sappi la sfiducia guarisce eccomi sono qui a parlarti ad abbracciare profondamente le tue ferite quanto dolore ancora vive ecco la tua rabbia diventa urgenza ecco la tua anima scalpita a te che hai rancore nel cuore e non riesce a risalire io dico questa è la tua chiamata questo è il tuo momento un antico vaso di emozioni assopite e sepolte che è pronto alla rottura questo sei tu adesso le crepe sono le tue insicurezze le crepe le tue paure ed è bellissimo ciò che accade dentro di te arrabbiati e non trattenere nulla è il fuoco di antiche incarnazioni e chiede giustizia onore e dignità vengono a trovarti perché la tua anima è pronta gli antichi soprusi attraversano questo mondo adesso per essere rivissuti nella matrice e debellati per sempre cara anima stai rivivendo ciò che ti ha il cuore ciò che ti ha spezzato e reso impotente accetta il desiderio di rivalsa dentro di te accetta questa profonda angoscia che esterni attraverso frustrazioni e lacrime sono qui ad asciugarle per sempre sono qui ad aiutarti perché questo è il momento e tu l'hai scelto solo tu la luce ti sostiene e ti ricorda le tue scelte il tuo percorso è quello che sei stato ed è ciò che sei ora infiniti codici e sfumature interagiscono con te nel dolore di cicatrici che da molto tempo ti accompagnano non devi più convivere con la rassegnazione se accetti le tue ombre puoi vedere la tua immensità accetta ogni battito irregolare del tuo cuore ogni tua severa reazione è necessaria osserva il dolore di questo mondo perché è anche il tuo ed ora è nudo esposto completamente alla luce del sole nulla può essere nascosto ancora la tua personalità cade si arrende perché è tempo che tu ti riveli se hai sfiducia nell'umanità è perché non ti fidi ancora di te non abbastanza i soprusi di un tempo hanno seminato la tua fragilità e l'hanno fatta crescere ed ora sono qui per aiutarti a tagliare queste radici così profonde strappa le via e muoviti da questa tua immobilità c'è terreno fertile intorno a te che ti aspetta e semi nuovi da nutrire li vedrai crescere questo è certo è tempo che tu abbracci finalmente te stesso e reclami la tua forza la tua potenza la tua magnificenza la tua personale e bellissima espressione di ciò che è di cui tu sei parte e artefice il tuo potere di ribaltare la visione scettica di questo mondo tu sei il rancore che si trasforma e diventa ponte con i regni che hai lasciato per essere qui questa è la tua occasione e sappi è la più importante che tu possa avere è tempo di cose eccezionali è tempo di espressioni di vera potenza riprendi contatto con la visione vera e procedi in questo mondo con gratitudine e forza non sei qui per limitarti ancora oltrepassa questa porta è cessato il tempo della rassegnazione non affliggerti più alzati e procedi non sai quante possibilità vivono in te non conosci il tuo potere ma io ti dico verrà il tempo in cui lo ricorderai e tornerai ad essere fiamma fuoco divino che cammina in terra il tempo è qui adesso questo tempo sei tu marica moretto voce marina grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti